In una delibera dell'amministrazione comunale si legge chiaro nero su bianco che un terreno alla fine di via Rochester ospiterà la sala espositiva che sarà realizzata per ospitare le vare. In un progetto già stabilito dall'assessore al patrimonio Maria Grazia Rigi esiste già un progetto preliminare. La realizzazione della sala espositiva in prossimità del quartiere San Luca è prevista appunto nei prossimi anni. Ma i proprietari delle vare non ci stanno non tanto per la decisione quanto per le modalità attraverso le quali la decisione stessa è stata presa. Lo dice Roberto Morgana in una dichiarazione al giornale di Sicilia perché i proprietari dei gruppi sacri così insorgono. In una decisione così importante ha spiegato Morgana i diretti interessati ovvero i proprietari delle vare non sono stati minimamente interpellati eppure ne hanno titolo. Credo sarebbe stato più giusto avviare una collaborazione fra comune e associazione per arrivare ad una soluzione condivisa diciamo no ad un'idea calata dall'alto.